Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Furgone pieno di re furtiva di valore, fermato in autostrada all'altezza del casello di Fano, 4 persone arrestate Un centinaio di famiglie rimasero senza luce condominiale Vi spieghiamo come funziona la truffa che permette di cambiare gestore all'insaputa dell'amministratore di condominio Sport e solidarietà, sabato al Mancini di Fano, le nazionali di calcio amputati di Italia e Polonia Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Buonasera, benvenuti a tutti cari telespettatori di Fano TV All'appuntamento con l'informazione locale delle 20 e 30 Occhio alla Notizia E cominciamo dalla cronaca, con un furgone Un furgone che è stato fermato vicino al casello autostradale di Fano Al cui interno c'era di tutto Un vero e proprio bazar di re furtiva Che va dagli oggetti d'oro Orologi, computer, tablet, telefonini Gemme di valore Passando per selle da cavallo di pregiata fartura E finendo con utensili da lavoro e da officina meccanica C'era di tutto nel furgone Mercedes a passo lungo Fermato nei pressi del casello autostradale della 14 Nelle prime ore della mattinata di oggi Dagli agenti del reparto autostradale di Fano Per intuito, esperienza o fiuto investigativo degli agenti che sia Fatto sta che il mezzo, pur non facendo nulla di strano Ha attirato l'attenzione della pattuglia che lo ha subito fermato A bordo del furgone che viaggiava in direzione nord Quattro uomini di nazionalità rumena Risultati poi dai controlli effettuati Tutti con numerosi precedenti e segnalazioni di polizia Bastava questo ai poliziotti per effettuare una perquisizione del mezzo E scoprire la gran quantità di oggetti Senza un apparente ordine logico Né alcun imballo o indirizzo di destinatari Accompagnati a luna di notte nella stazione di Fano Iniziava così il meticoloso lavoro degli agenti Ai riscontri della refurtiva Ed i primi dati non tardavano ad saltar fuori Dai furti denunciati in zona messi in relazione con gli oggetti ritrovati I quattro rumeni sono stati quindi indiziati per ricettazione Ed intesa con l'autorità giudiziaria Sottoposti a fermo e portati in carcere a Villa Fastigi Ritenendo il giudice fondato il pericolo di fuga della banda Qualche settimana fa vi abbiamo parlato Raccontato una vicenda nella quale Un centinaio di famiglie rimasero Praticamente senza luce elettrica condominiale Ebbene tutto questo per un distacco moroso Non avevano praticamente pagato la bolletta Ma in realtà si scoprì quasi subito Che qualcuno aveva chiuso un contratto con l'Enel E' attivato un altro contratto Con una società però quasi fantasma Oggi vi spieghiamo che cosa è successo nel dettaglio Per fare questa cosa fanno questo lavoretto Nel senso che Ora è tutto risolto Quanto meno la fornitura è stata ripristinata Resta da vedere però se ci saranno dei costi da sostenere Se l'Enel li vorrà ricaricare Ma questa disavventura capitata a 90 persone di un condominio Per un cambio gestore fasullo Potrebbe capitare ancora e da tutti quanti Perché i dati che servono per fare i falsi contratti Sono facilmente ricavabili Questi dati se una persona vuole veramente truffare Si può tranquillamente intruffolare In un condominio come il nostro Dove c'è tanta gente Quindi è difficile controllare chi entra e chi esce Andare a guardare dentro il quadro elettrico Dove ci sono i contatori E in questo caso leggere alcuni numeri Che sono facilmente visibili nei contatori Per poi siglare o compilare un contratto falso Quali sono i dati che vanno riportati nel contratto fittizio? Incredibilmente noi pensavamo che fosse così complicato Invece ne basta praticamente solo uno o due Il famoso codice POD Che sarebbe una specie di codice fiscale del contatore O di punto di accesso dell'energia elettrica Diciamo con l'avvento del mercato libero Questo codice identifica Indipendentemente con quale società poi tu A quale società vai a pagare la bolletta Questo numero di codice identifica il contatore Ok? Ecco questo numero di codice Può essere clonato E qualsiasi persona può diciamo Accollarsi, intestarsi la proprietà di questo contatore E falsamente dichiarare che vuole staccarsi da Enel E riattaccarsi a un altro gestore Il codice POD è formato da questa sequenza di lettere e numeri C'è il primo codice che è una specie di codice fiscale IT che significa Italia 001 che significa il codice di chi è del fornitore di energia elettrica A cui si è attaccato al momento E 001 sta per Enel Ok? Perché praticamente tutti siamo partiti da essere allacciati all'Enel Poi col mercato libero Chi vuole ha cambiato Oppure chi è stato costretto a cambiato Anche a sua insaputa E poi c'è una lettera E che significa energia elettrica Ok? Questa è prima parte del codice È fissa È sempre quella per tutti i numeri POD che abbiamo in Italia Almeno finché non cambi il gestore la prima volta Ok? Poi segue un codice punto di prelievo Ok? Che è un codice di cifre Ok? Di numeri Però la sfortuna vuole che casualmente questo codice Finché sei attaccato a Enel È uguale, identico al numero cliente Numero cliente Enel Ok? Che è esattamente quel numero che vedi sul tuo contatore digitale Ok? E quindi chiunque va lì e questo numeretto se lo prende Queste qui sono sempre le stesse lettere E quindi il numero POD lo compone in automatico Così Insaputa ovviamente del vero proprietario Ma c'è un altro dato che va inserito in questi contratti fittizi Che è un codice fiscale Una partita IVA Anche questo poi in fin dei conti Se uno si industria non è così facile estraporarlo Sì ovviamente devi venire qui con l'ottica di fare qualcosa di truffaldino Praticamente il codice fiscale del condominio Ovviamente non è un dato pubblico Però ovviamente in qualsiasi condominio Nella bacheca sono appesi comunicati Del condominio dell'amministratore In cui ovviamente è stampigliato e riportato anche il codice fiscale del condominio Quindi questo qui è l'esempio del contratto Che ha Diciamo appunto Con il quale si sono staccati Abbiamo staccato la luce al nostro condominio Questa è la cosiddetta dichiarazione con cui Il prestanome si dichiara Disposto a staccarsi da Ene Dal servizio elettrico nazionale Indicando qui Vedete la calligrafia È quasi illegibile Voi immaginate che scrivendo un contratto così Che a malapena si vede Con una calligrafia quasi illegibile Questi contratti vengono resi e considerati validi Dalla società ultima E vengono di fatto Resi validi E quindi operativi Dopo pochi giorni Ok Quindi qui lui dichiara Che questi contatori Questi numeri pod sono i suoi E dichiara di volersi staccare E con questo contratto Che è il contratto che firma con la nuova società Lui con suo nome, cognome, indirizzo E codice fiscale Che non è il suo Ma quello del condominio Che è questo qui Che sarebbe questo Lui dichiara Che ci sarà un foglio Per ogni contatore Ovviamente Qui ci mette Qui l'indirizzo Per esempio Via Vivaldi Che è una delle nostre scale Dice Questo è il mio numero pod Questo Esatto Vedi Sede di fornitura dell'energia elettrica Cioè l'indirizzo Il codice pod Ok E il recesso per cambio Fornitura dell'energia elettrica Ok E dice Dove praticamente Cioè capito Quello da cui vuole recedere Praticamente firma tutto E qui c'è la firma Della società Cosiddetta intermediaria Che probabilmente Sono quei lestofanti Che praticamente Hanno organizzato Tutto questo giro Ok Di truffa Ovviamente qui c'è Un numero di cellulare Che probabilmente Se chiami non risponde nessuno Ovviamente c'è un nome Con un nome di società Che probabilmente non esiste Ma su questo qui È terreno delle forze dell'ordine Ci penseranno loro poi a indagare Però mi risulta che ricevono Migliaia di queste denunce Di fatti che avvengono continuamente In questo senso E quindi ci si trova All'improvviso A vedersi volturati i contratti Senza saperne niente Però Chi vuole sa Incrociare dati diversi Trovare una falla Nel sistema Debole Di questa liberalizzazione Del mercato Che in questo caso È quello che gli enti E le società Che prendono in mano I nuovi contratti Non sono probabilmente Tenute a fare nessuna verifica E praticamente Con questa falla Del sistema A chi piace A chi piace Lavorare nel torbido Riesce a trovare Il suo tornaconto Adesso la cronaca Sull'aggressione Avvenuta l'altra sera In centro storico a Fano E le macchie di sangue Trovate a terra Dopo un pestaggio Avvenuto in piazzetta Donatori del sangue Le indagini Degli inquirenti Mirate ad appurare L'esatta dinamica Della caduto Hanno portato Ad una persona Già nota Alle forze dell'ordine Per altri episodi Soprattutto di ubriachezza La vittima dell'aggressione Però Che è stata sentita Dai carabinieri Pare non abbia Alcuna intenzione Di sporgere querela Nei confronti Di chi lo ha aggredito E quindi potrebbe finire Tutto così Senza conseguenze Giudiziari Chiamiamo pagina Durante l'estate Vanno in aiuto Ai genitori Soprattutto quelli Che lavorano I centri estivi Ebbene il Comune di Fano Ha presentato Le novità Di quest'anno Sarà un servizio migliorato Quello dei centri estivi Educativi Del Comune di Fano Che accoglie Le richieste Dei genitori Sia per il nido Che per l'infanzia Ampliando la flessibilità Degli orari di uscita Portandolo Fino alle 18 Dal 3 luglio al 4 agosto Infatti Saranno disponibili 40 spazi Per il nido Presso la struttura Del grillo E 60 per l'infanzia Presso la scuola Gallizzi Ai quali ci si può iscrivere Dal 13 al 26 aprile Con riferimento Agli uffici Dei servizi educativi Di via Vitruvio Numero 7 Un servizio rinnovato Dunque Anche nelle strutture E che grazie alla collaborazione Con la cooperativa Labirinto Ha ampliato La sua offerta formativa Andando così incontro Alle esigenze Di tutti i tipi di famiglia E' un servizio Rinnovato Anche nelle strutture Ricordiamo che l'anno scorso Il grillo è stato interessato Da interventi di ristrutturazione Per quasi 100.000 euro Ed è soprattutto Un servizio Che attraverso anche Alla collaborazione Con la cooperativa Labirinto Quest'anno presenterà Anche una serie di novità Importanti Per quelli che sono I contenuti didattici Pedagogici E ludici Quindi una proposta Importante Che pensiamo Possa essere un buon servizio Per le famiglie Soprattutto per le famiglie Più giovani Della nostra città Saranno attività In giardino Con le costruzioni Attività sul morbido Attività comunque Con la natura Riprese Nello stesso modo Nella scuola dell'infanzia Dove verranno create Dove verranno create Delle stanze apposite Con dei laboratori Ad hoc Dove un laboratorio Dell'acqua Un laboratorio Delle costruzioni Un laboratorio Della terra Dove si potranno Esercitare Con sia la terra Ma sia con la creta Ecco Con la semina I vari aspetti Legati Agli elementi Naturali Per Perché comunque Anche siano Variate Le attività Settimanali Delle cinque settimane Dal 2 al 4 aprile Si terrà a Milano La Borsa internazionale Del turismo La BIT Che è una vetrina Un punto d'incontro Del trade Del comparto turistico Del nostro paese Sarà presente Con uno stand Anche la regione Marche Che ospiterà Realtà commerciali E istituzionali Per far conoscere meglio Il territorio E le attrattive turistiche Per la città di Fano Grazie anche All'interessamento Del vice presidente Del consiglio regionale Renato Claudio Minardi Sarà presente Il vice sindaco E assessore Alla cultura E turismo Stefano Marchegiani Che oltre al brand Turistico della città Presenterà in particolare Le manifestazioni di punta Di Fano Come il carnevale Il festival Della saggistica Passaggi Il festival Fano Jets By the Sea E poi Il festival Del brodetto E delle zuppe Di pesce Calcio E solidarietà Sabato Allo stadio Mancini di Fano Dove scenderanno in campo Due nazionali di calcio Quella italiana E polacca Attesa finita Domani Si scende in campo E sarà partita vera Tra la nazionale Amputata italiana E quella polacca Che si sfideranno Allo stadio Mancini di Fano È la prima volta In Italia Per i polacchi Che confessano Però Di essere sempre Tornati vincenti Dalle loro trasferte Passate Il signore dice Che sono molto contenti Ringraziano infinitamente Per tutta l'accoglienza L'ospitalità E soprattutto Anche per il fatto Che c'è il sole E li accompagnerà Per queste giornate Evento internazionale Dunque sotto molti aspetti Tanto da coinvolgere Anche il Moto Mondiale Che con la presenza Del team Forward Moto2 Di Misano Porterà sostegno Alla manifestazione E tramite Il team MotoGP Cercheremo di Divulgare Il più possibile Diciamo Questo evento E come dicevo prima Questa nuova associazione Per dare manforte Perché secondo noi Lo sport È una cosa Molto importante E un'emozione grande È quella che sta provando Lorenzo Professione attaccante Che con un entusiasmo Contagioso Invita tutti a partecipare Per vedere con i propri occhi La passione L'impegno dei ragazzi Contro ogni difficoltà Beh dico di venire A vedere la partita di sabato Perché parla da solo Il campo Vedere questi ragazzi Che si impegnano E anche contro tutte le difficoltà Che hanno ogni giorno Di amare lo sport Amare il calcio In questo caso È una cosa strabiliante Perché poi Parlare un conto Vederlo dal vivo È sicuramente un altro Luca Serfilippi Già ex assessore Allo sport Nell'amministrazione Aguzzi Subentra in consiglio comunale Dopo le dimissioni Da consigliere Di Stefano Aguzzi Che come sapete È candidato Per la corsa A sindaco di Colli al Metauro Serfilippi Allora lei Fra un po' Ritornerà nel lagone politico Come sta vivendo Queste ore? Ma sì Per me è un piacere Tornare a far parte Del consiglio comunale Da semplice consigliere D'opposizione Quindi In questi tre anni Ho seguito Sempre le vicissitudine Della mia città Però Da studente universitario E da lavoratore Quindi adesso Ho chiesto ad Aguzzi Addirittura di aspettare Prima di dimettersi Perché Voglio terminare Il mio percorso di studio E anche lavorativo Quindi Ora Sono pronto Con entusiasmo Cuore Passione A ricoprire Questo ruolo Sicuramente Spero di dare Il mio imprinting A questo consiglio comunale Che cosa si porterà Dietro della sua Pregressa e esperienza Come assessore? Beh sicuramente L'esperienza amministrativa Che ho maturato Nei tre anni D'assessore Saranno messi a frutto Quindi Porterò la mia esperienza Quindi con mozioni Per avere un atteggiamento Sicuramente propositivo Costruttivo Però D'altro canto Anche con diverse interrogazioni O interpellanze Magari anche suggerite Dai cittadini Dai miei concittadini Perché sono naturalmente Aperto a tutti E a tutte le varie questioni Che ogni giorno Interessano la nostra città Quale sarà il primo consiglio In cui la vedremo Tra i banchi? Eh purtroppo Il 27 aprile Perché è saltato Quello del 6 Non essendoci Punti di ordini del giorno Che la giunta porta al consiglio Quindi il 27 aprile Ci sarà la surroga Tra il consigliere comunale Uscente Aguzzi E sottoscritto Giovedì 6 aprile Alle 21.15 Al teatro Della Fortuna di Fano Il coro polifonico Malatestiano Diretto dal maestro Francesco Santini Proporrà la buona novella Di Fabrizio De Andrè Rielaborata dal maestro Lorenzo Donati Sul palcoscenico Salirà anche L'attore fanese Carlo Simoni Il coro polifonico Il coro polifonico Per un progetto Bello Molto Di ampio respiro Come mai avete pensato Di allestire Questo lavoro Speriamo veramente Che sia di ampio respiro Beh in realtà Vogliamo fare L'evento inaugurale Del 44esimo Incontro Internazionale Polifonico Consideriamo anche Che il coro polifonico Il prossimo anno Celebrerà i 50 anni Quindi è chiaro Che vuole proporsi Alla città Con un'operazione Diciamo Più innovativa Cercando anche Di dialogare Con forme espressive Nuove Comunicare alla cittadinanza Insomma E' un po' un regalo Alla città In un certo modo Ecco un regalo Che però Ha in sé Una complessità Non da poco Dal punto di vista musicale Con diverse articolazioni E' stato difficile Allestire E' difficile sicuramente Perché Che la buona novella Nasce Da Fabrizio De Andrè Per Fabrizio De Andrè E rielaborarla Per un coro Di 40 persone Diventa Complesso Nella Nella musicalità Che viene Che viene Espressa De Andrè Pensa A determinate melodie Le sviluppa Per la sua voce E ne dà Un'interpretazione Che poi Tra l'altro Tutti conosciamo Sappiamo Chi è De Andrè Una voce narrante Di uno spessore Anche importante A sottolineare A rimarcare La sonorità Degli strumenti Insomma Come dialogano Voce Empatia La musica Può arrivare Tantissimo Ai cuori Delle persone Con le parole Di De Andrè Che sono Effettivamente Molto importanti Profonde Poetiche Sarà un grande piacere Poterla interpretare E cercare Di tirar fuori Quell'anima Che lui Umanamente Nel personaggio Di Gesù Ma in tutta La buona novella Ha voluto Sottolineare Fortemente Questo era Il nostro ultimo servizio Grazie per averci seguito A voi tutti L'augurio Di una buona serata Vi ricordo il numero Per le vostre segnalazioni Noi ci vediamo Domani mattina Alle 7.30 Con Occhio e giornali La Rassegna Stampa La Rassegna Stampa